E' sempre più vicina la partenza ufficiale della nuova Banca Popolare di Prato. In attesa del Via Libera alla raccolta dei fondi da parte della Consub, ieri sera il progetto è stato presentato alla città. Vediamo il servizio di Emanuele Meoni. Una banca innovativa, popolare, con costi di gestione molto bassi e attenta alle esigenze peculiari del territorio. È la Banca Popolare di Prato, la prima banca 3.0 in Europa, che si pone come obiettivo principale di investire in città ogni centesimo raccolto a Prato. Ieri sera, nel Salone Consigliare del Palazzo Comunale, ha avuto luogo l'incontro con il Comitato Promotore della Banca Popolare di Prato, in collaborazione con il Comune e la provincia di Prato, alla presenza delle autorità, dei soci e dei cittadini a corsi numerosi. Il sentimento della città è un sentimento forte, un sentimento di simpatia e vicinanza nei confronti di questo progetto che è nato due anni fa e un passo dietro l'altro è cresciuto, ma è cresciuto fondamentalmente perché ha trovato l'interesse delle persone che sono state chiamate ad esporre le proprie istanze e sono state addensate e sintetizzate anche in un documento che ci ha dato la linea guida per quello che sarà il futuro di questo progetto. Nel corso dell'incontro è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento del progetto e le caratteristiche del nuovo istituto di credito, formulati dopo un anno di incontri con i cittadini del territorio pratese e dell'area metropolitana Prato-Firenze-Pistoia. La Banca Popolare di Prato sarà una banca cosiddetta a chilometri zero perché tutto ciò che verrà raccolto a Prato verrà rinvestito a Prato, quindi sarà uno strumento finalizzato proprio allo sviluppo dell'economia locale e se non altro sarà l'unico oggi presente finalizzato solo a questo. Un'occasione insomma per sottoscrivere un patto ideale con enti locali, categorie economiche e sociali del territorio e per preparare Prato alla fase della raccolta dei fondi, ormai prossima, in attesa del via libera della Consob.